Sono arrivati da tutta Europa i 3.100 atleti che si sono dati appuntamento a Torino nel fine settimana dell'8 e 9 febbraio per la 37esima edizione della regata internazionale di fondo d'inverno sul Po. Una sfida a colpi di remo diventata anno dopo anno appuntamento irrinunciabile nel panorama del canottaggio nazionale, inserita nel calendario delle celebrazioni per i 50 anni della regione Piemonte, a testimonianza di come lo sport possa essere ambasciatore di valori positivi e di corretti stili di vita. Quest'anno sono due giornate di sport importanti, l'ho già detto ma ci tengo a dirlo. Abbiamo la partecipazione delle istituzioni, della regione, del consiglio regionale della regione Piemonte che ringraziamo e abbiamo una collaborazione con la fondazione AIRC, Associazione Italiana della Ricerca sul Cancro, a testimonianza di una manifestazione che cresce, che è sempre più importante e non solo per il mondo del canottaggio ma anche per i fruttori normali. Infatti la società Canottieri e Spera Torino è aperta a tutti e queste due giornate di sport vogliono essere appunto la testimonianza di un'apertura della città e del fiume per una fruibilità da parte di tutti. L'impegno che viene dato anno dopo anno, manifestazione dopo manifestazione, è davvero prova di capacità e prova di capacità del comitato organizzatore, prova di collaborazione fra le società e di prova di come questa manifestazione sia davvero un elemento essenziale, non solo per il movimento armero ma per la città. 3.500 atleti, vogliono dire 7.000 turisti in un weekend che arrivano a Torino e quindi un grande movimento sportivo che vuol dire anche importanza per il turismo e per il nostro territorio. Alle regate partecipano dagli allievi ai master su diverse distanze, i quattro di coppia, i doppi e i singoli, maschili, femminili e misti. Ai nastri di partenza anche gli atleti con disabilità intellettiva nella categoria Special Olympics e diversamente abili nel para-rowing. Novità del 2020, la sfida tutta accademica tra le imbarcazioni dei Politecnici di Torino e di Milano, una prima assoluta che ha visto trionfare gli equipaggi di casa, capaci di imporsi fin dalla prima delle tre manche senza regalare nulla agli avversari. Si è svolta su due manche perché in realtà era il meglio dei tre, la prima per fortuna noi avevamo l'altro quattro di coppia su cui io non c'ero, è stata credo molto più combattuta della seconda manche e poi allora la seconda niente, dovevamo assolutamente vincere per chiuderla definitivamente, quindi niente abbiamo dato tutto, siamo bariti forti e siamo arrivati avanti. È stata comunque una bellissima gara e niente abbiamo avuto la possibilità siccome eravamo più persone a partecipare di fare dei cambi, cambiare gli equipaggi e Politecnici di Torino ha cambiato l'intero equipaggio, io invece sono rimasta per tutte e due le gare ma va bene, è stato divertente e non vediamo l'ora della rivincita, ecco è importante questo. Grazie 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 Grazie